Con questo tutorial parliamo di rette parallele e rette perpendicolari. Consideriamo due rette R ed S, tutte e due scritte in forma esplicita. La prima è di equazione y uguale m1x più q1 la seconda y uguale m2x più q2. Diciamo che R è parallelo ad S se solo se m1 è uguale ad m2, cioè due rette sono parallele se hanno gli stessi coefficienti angolari. Diciamo invece che R è perpendicolare ad S se solo se il coefficiente angolare di una retta è antireciproco dell'altra retta. In formule dobbiamo andare a scrivere che m1 deve essere uguale a meno 1 su m2. A questo punto andiamo a vedere degli esempi dove possiamo applicare i principi di rette parallele e rette perpendicolari e subito dopo andiamo a vedere casi particolari quando abbiamo rette parallele all'asse delle x e rette parallele all'asse delle y. Vediamo questo esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta che passa per il punto P2,1 e parallela alla retta di equazione y uguale 3x meno 1. Ricordiamo che per scrivere l'equazione di una retta abbiamo due possibilità, cioè avere due punti, la retta che passa per due punti, oppure punto e coefficiente angolare. In questo caso dobbiamo utilizzare proprio la formula punto e coefficiente angolare. Ricordo qual è la formula. y meno y con 0 uguale mx meno x con 0. Vediamo perché dobbiamo utilizzare questa formula. Perché abbiamo il punto P2,1, quindi abbiamo x con 0 e y con 0. Poi sappiamo che l'equazione di questa retta non solo passa per il punto P2,1, ma è anche parallela a questa retta. Allora due rette sono parallele quando hanno lo stesso coefficiente angolare, cioè la retta che passa per P ha lo stesso coefficiente angolare della retta R e quindi vuol dire che m deve essere uguale a 3. A questo punto abbiamo un punto, questo, e il coefficiente angolare. Andiamo adesso a sostituire questi valori all'interno di questa formula ed otteniamo y meno y con 0, cioè 1, uguale m che è 3 che moltiplica x meno 2. Ora ci facciamo due calcoli ed otteniamo y meno 1 uguale 3x meno 6 e a conti fatti otteniamo y uguale 3x meno 5. Verifichiamo ora graficamente quanto abbiamo ottenuto. Allora, ho aperto una finestra di Desmos, basta andare su www.desmos.com slash calculator e qui vado a scrivere l'equazione y uguale 3x meno 1. Questa retta è proprio la retta iniziale. Ora devo andare a disegnare il punto P 2 e 1. Voglio rappresentare graficamente la retta che passa per il punto P 2 e 1 e parallela alla retta y uguale 3x meno 1. A noi è uscita questa equazione e allora l'andiamo a scrivere e verifichiamo effettivamente se passa per il punto P ed è parallela a questa retta. y uguale 3x meno 5. Possiamo osservare che effettivamente la retta y uguale 3x meno 5 è parallela alla retta iniziale e passa anche per il punto P. Vediamo quest'altro esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta passante per il punto P 3 meno 1 e parallela alla retta di equazione y uguale meno 1 terzo x più 2. Allora, abbiamo detto che due rette sono parallele quando hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi la retta che passa per P avrà lo stesso coefficiente angolare della retta R e quindi mi vado a scrivere che m è pari a meno 1 terzo. Ora abbiamo un coefficiente angolare, abbiamo un punto, riapplichiamo la formula y meno y con 0 uguale mx meno x con 0 ed otteniamo y meno y con 0. Il nostro y con 0 è meno 1 e allora vado a scrivere meno meno 1, cioè più 1 uguale m che è pari a meno un terzo che moltiplica x meno x con 0. Il nostro x con 0 è 3 e allora vado a scrivere x meno 3. A questo punto ci facciamo un po' di conti ed otteniamo y più 1 uguale meno 1 terzo x, poi abbiamo meno 1 terzo per meno 3 che fa più 1. Ora questo 1 e questo 1 li possiamo semplificare e l'equazione che otteniamo è y uguale meno 1 terzo x. Ho riaperto di nuovo Desmos e ho già disegnato la retta iniziale y uguale meno 1 terzo x più 2 ed il punto P 3 meno 1 che è questo qui. Ora voglio disegnare la retta che passa per questo punto e parallela alla retta iniziale. A noi c'è uscito y uguale meno 1 terzo x e allora qui vado a scrivere y uguale meno 1 terzo x. Effettivamente questa retta è una retta che passa per il punto P e parallela alla retta iniziale. Passiamo ora alle rette perpendicolari. Vediamo questo esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta che passa per il punto P 1 2 e perpendicolare alla retta y uguale 1 sesto x meno 4. Ricordiamo che due rette sono perpendicolari quando hanno il coefficiente angolare antireciproco dell'altra. Cioè vuol dire che se di questa retta abbiamo coefficiente angolare 1 sesto e ce lo andiamo a scrivere m uguale 1 sesto, la retta perpendicolare avrà un coefficiente angolare m primo antireciproco. Vuol dire che devo cambiare segno a 1 sesto e quindi metto meno e poi faccio il reciproco di un sesto cioè 6. A questo punto ho il nuovo coefficiente angolare della retta che sarà sicuramente perpendicolare a questa. Avendo adesso coefficiente angolare e punto posso scrivere l'equazione della retta e vado a scrivere y meno y con 0, y con 0 è 2 e allora vado a scrivere y meno 2 uguale m e l'm che dobbiamo considerare è questo, cioè quello della retta perpendicolare e allora vado a scrivere meno 6 che moltiplica x meno x con 0. x con 0 è la x del punto P, cioè meno 1. A conti fatti otteniamo y uguale meno 6x più 8 e questa è l'equazione della retta che passa per questo punto è perpendicolare alla retta iniziale. Ora verifichiamo tutto quanto graficamente. Ho disegnato l'equazione della retta y uguale 1 sesto x meno 4, cioè la retta iniziale, e il punto P 1, 2. Ora voglio andare a graficare l'equazione della retta che passa per questo punto è perpendicolare alla retta iniziale. Abbiamo ottenuto come equazione y uguale meno 6x più 8 e allora vado a scrivere qui all'interno di Desmos l'equazione y uguale meno 6x più 8. Quello che otteniamo è una retta che passa per il punto P e perpendicolare alla retta iniziale. Dalla verifica che abbiamo effettuato otteniamo una retta che passa effettivamente per il punto P e perpendicolare alla retta iniziale. Vediamo quest'altro esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta passante per il punto P 1, 6 e perpendicolare alla retta di equazione y uguale meno 2 terzi x meno 1. Ricordiamo che due rette sono perpendicolari quando hanno coefficienti angolari l'uno antireciproco dell'altro. Allora, il coefficiente angolare di questa retta è meno 2 terzi e allora l'equazione della retta che è perpendicolare a questa avrà di certo il coefficiente angolare pari a 3 mezzi perché ho dovuto cambiare disegno e poi fare il reciproco di 2 terzi. Ora ho punto e coefficiente angolare e posso andare a scrivere l'equazione della retta e vado a scrivere y meno y con 0, cioè 6, uguale m tre mezzi che moltiplica x meno x con 0, cioè meno 1. A conti fatti otteniamo y uguale tre mezzi x più nove mezzi e questa rappresenta l'equazione della retta che passa per il punto P 1, 6 e perpendicolare alla retta iniziale. Ora andiamo a verificare tutto quanto graficamente utilizzando Desmos. Ho aperto Desmos e ho già disegnato l'equazione y uguale meno 2 terzi x meno 1, cioè questa qui. Ho disegnato anche il punto P 1, 6 che è questo e adesso verifichiamo che l'equazione y uguale tre mezzi x più nove mezzi rappresenta proprio l'equazione della retta che passa per il punto P e perpendicolare alla retta. Allora andiamo a scrivere y uguale tre mezzi x più nove mezzi. La retta effettivamente passa per il punto P ed è perpendicolare alla retta iniziale. Vediamo ora alcuni casi particolari. Allora, lo scopo è scrivere l'equazione della retta che passa per il punto P 3, 1 e parallela a y uguale a 2. Poi vediamo l'equazione della retta che passa per il punto 3, 1 e perpendicolare sempre a y uguale a 2. In questo caso ci troviamo in un caso particolare perché l'equazione y uguale a 2 è l'equazione di una retta parallela all'asse delle x. Quindi se devo andare a scrivere l'equazione di una retta che passa per questo punto e parallela ad una retta che è parallela all'asse delle x è sufficiente andare a considerare la y del punto e quindi l'equazione della retta parallela sarà proprio y uguale ad 1. Se andiamo a rappresentare graficamente effettivamente otteniamo quanto dico y uguale a 1 ed è proprio questa retta. Ora vogliamo andare a scrivere l'equazione della retta che passa per il punto P 3, 1, cioè il punto P è sempre questo, però voglio che sia perpendicolare alla retta y uguale a 2, quindi sarà una retta di tipo verticale. Allora, in questo caso è sufficiente andare a considerare la x del punto e allora l'equazione sarà proprio x uguale a 3. Andiamo a rappresentare l'equazione x uguale a 3 ed otteniamo una retta che passa per il punto P ed è perpendicolare alla retta y uguale a 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta che passa per il punto P, meno 1, meno 2, rappresentato in figura, parallela alla retta x uguale a 4, cioè questa qui. Poi andiamo a scrivere l'equazione della retta che passa per questo punto e perpendicolare a x uguale a 4. Iniziamo dalla retta parallela. Osserviamo che dobbiamo scrivere una equazione che passa per questo punto e parallela ad una retta verticale. La retta verticale è x uguale a 4. In questo caso basta andare a considerare la x del punto e allora la retta parallela a x uguale a 4 sarà proprio x uguale a meno 1. Andiamolo a verificare in figura. x uguale a meno 1. Effettivamente otteniamo una retta che passa per questo punto ed è parallela alla retta iniziale. Come ultimo caso andiamo a considerare l'equazione della retta che passa per questo punto e perpendicolare a x uguale a 4. Quindi dobbiamo andare a scrivere l'equazione di una retta che è perpendicolare ad una retta verticale e quindi andrò a immaginare che sarà una retta di tipo orizzontale. In questo caso basta andare a considerare la y del punto e allora una retta che passa per p ed è perpendicolare a x uguale a 4 sarà y uguale a meno 2, cioè pari alla y di questo punto. Andiamola a verificare in figura e vado a rappresentare y uguale a meno 2. Quello che ottengo è proprio questa retta che è una retta che passa per il punto p ed è perpendicolare a x uguale a 4. E con questo esempio termino questo tutorial sulle rette parallele e rette perpendicolari. Grazie a tutti.